noi siamo a pagina 139 abbiamo letto la quinta piaga che era la pestilenza siamo a pagina 139 passo 8 prendetevi manciate colme di fuligine adesso vediamo cos'è fuligine fuligine di fornace e che moshe la getti verso il cielo e alla presenza del faraone prendetevi manciate colme perciò mosè e aron dovevano fare questa cosa andiamo a leggere il commento 8 manciate colme rashi scrive che in francese si tratta di un'unità di misura oggi nota come gallone di questa fuligine giriamo pagina andiamo avanti sempre nel commento fuligine di fornace come spiega rashi si tratta della cenere biancastra che si forma sui carboni spenti quando accenniamo il carbone no e dopo un po il carbone si consume si spegne rimane quella patina bianca sopra con la polverina bianca questo è quello che stiamo parlando qua cenere biancastra che si forma sui carboni spenti ciò che alleggia sulle bracci che vengono fatte ardere nelle fornaci perciò loro dovevano prendere due manciate di questa roba qui e gettarla in aria sempre di seguito rashi fa notare che il verbo zarak a differenza del più comune hashlich allora noi abbiamo due modi di dire gettare buttare uno è zarak e l'altro è hashlich hashlich tutti e due vogliono dire buttare gettare ok se non che l'ebraico è una lingua così perfetta che anche due parole che sono sinonimi c'è sempre un qualcosa che l'altro significa e l'altro no perciò qui la parola che noi stiamo usando zarak hashlich indica l'atto di gettare con forza invece il secondo hashlich gettare non con tanta forza per farlo si impegna una sola mano ovvio no? perché paradossalmente se io getto con una mano è più forte se io getto con due mani è più devole e finì siamo tutti d'accordo anche Samuele su questo è d'accordo perciò per gettarlo forte dovevo usare una mano era necessario che Moshe riunisse la sua cenere e quella di Aaron in una mano perciò visto che il passo dice che sia Moshe che Aaron dovevano prendere questa manciata e Moshe la doveva gettare vuol dire che le due manciate andavano tutte e due in mano di Moshe sia quella di Aaron che quella di Moshe poi alla fine Moshe prendeva tutte e due le manciate e le gettava si trattava di un evento miracoloso altrimenti avendo entrambi riempito completamente i pugni non si spiegherebbe come quello di Moshe potrebbe contenere una dobbia quantità ovvio no? se Moshe riempie il suo pugno e anche Aaron riempie il suo pugno ma poi la quantità di entrambi va soltanto nella mano di Moshe come fa a starci? se la sua mano era già piena come fa a starci quello che ha in mano Aaron? giusto? e in una manciata non in due colpi allora qua il commento dice che ovviamente si trattava di un miracolo inoltre la cenere si diffuse prodigiosamente in tutto l'esercito eh perdono in tutto l'Egitto perciò quando Moshe tira sopra in cielo allora si propaga in tutto l'Egitto era gigante era grandissimo perciò buttando Moshe in aria miracolosamente è andato a finire si è propagato in tutto l'Egitto in tutto il territorio scatenando la piaga per mezzo di una quantità tanto modesta di cenere Hashem dimostrò che le ulcere non potevano essere che il risultato di un prodigio allora ovviamente stiamo parlando della delle ulcere della sesta piaga ulcere allora Hashem vediamo che dall'inizio alla fine è tutto miracolo una mano due mani già ti pensiamo un miracolo lo butto in aria e si diffonde in tutto l'Egitto un altro miracolo perché Hashem fa questo ricordiamoci Hashem non fa mai un miracolo inutilmente Hashem vuole sempre andare secondo la natura del mondo e a volte quando obbligato a fare un miracolo cerca di farlo se deve proprio farlo cerca di farlo comunque investito investito nelle leggi della natura che non si veda totalmente che è un miracolo poi ci sono i miracoli eclatanti quello che si vede che è proprio al di là della natura perciò zero miracoli miracoli che sembrano naturali poi miracoli veramente grandiosi e eclatanti perciò qui Hashem vuole dimostrare ricordiamoci prima di questo abbiamo spiegato che non siamo qui a questo punto non siamo soltanto a cercare di liberare gli ebrei dall'Egitto abbiamo spiegato che c'è molto di più dietro c'è qui il desiderio di Hashem di far capire agli egizi che è lui il capo che è lui il padrone del mondo perché come abbiamo spiegato la settimana scorsa fa riuscire gli ebrei dall'Egitto c'erano migliaia di modi che Dio poteva fare mancano miracoli mancano sotterfugi modi poteva fare di tutto ma a questo punto della storia Dio voleva insegnare al popolo egizio che le loro pensieri che non c'è un Dio che il Dio è il Nilo che il faraone è un Dio lui voleva che loro capissero che è lui il Dio e nessun altro perciò fa queste cose per dimostrare che sono cose miracolose scatenando una piaga per mezzo di una quantità tanto modesta di cenere perché due pugni di cenere è pochissimo e sono e riescono ad andare in tutta l'Egitto e a fare quel disastro che hanno fatto Hashem dimostrò che appunto che le ulcire non potevano essere che il risultato di un prodigio di un miracolo 9 essa questa polvere si tramuterà in polvere su tutto il paese d'Egitto su uomini e animali producendo appunto ulcere che si sviluppano in buboni in tutto il paese d'Egitto vediamo il 9 cosa ci offre si tramuterà in letteralmente c'è scritto una Torah sarà ok grammatica ulcere sempre di seguito nel commento 9 letteralmente il termine Shekin che vuol dire appunto che parliamo di ulcere significa calore secondo Rashi vuol dire calore il versetto significa quindi la cenere ardente perché era cenere di del carbone provocò delle infiammazioni che maturarono in buboni pieni di pus e di liquidi non appena la foligine raggiungeva la pelle si producevano i buboni questo secondo rabbino behaia secondo Ramban Nachmanide invece la cenere rovente anche lì come fa Moshe a prendere cenere rovente in mano anche questo è un miracolo no? senza bruciarsi la cenere rovente si propagò in tutto paese e a contatto con la pelle dell'uomo dava all'origine a buboni come da ustione che chiuscuno invece Hashem non alterò le regole della natura permettendo che poca cenere colpisse l'intero paese e ne trasse la conclusione che Moshe e Aaron diedero solamente inizio alla piaga e che i buboni spuntarono indipendentemente dalla foligine ma ci abbiamo tre diverse opinioni quella le tre che abbiamo appena detto non stiamo a ripeterle comunque siano venivano buboni sulla pelle degli egizi 10 Moshe e Aaron presero la foligine di fornace e si presentarono al cospetto del faraone come Dio gli ha detto di fare Moshe appunto la gettò al cielo e si produssero ulcere che si svilupparono in buboni su uomini e animali come la copione vediamo il 10 se ha qualcosa no 11 i maghi degli egizi non poterono trattenersi al cospetto di Moshe e a causa delle ulcere poiché le ulcere avevano colpito i maghi e tutto l'Egitto quando questa foligine aveva colpito tutti sono venute le ulcere le piaghe eccetera i bomboni e così via i maghi i stregoni che non riuscivano a stare davanti a Moshe a causa di questa piaga qua cosa vuol dire che non riescono a stare davanti a Moshe commento dice non riescono a trattenersi letteralmente tenersi in piedi non riuscivano a stare in piedi davanti a Moshe a causa della piaga il significato del verbo Ahmad stare in piedi può variare a seconda del contesto gravemente colpiti dalle ulcere i maghi rimasero chiusi in casa vergognandosi di mostrarsi in quello stato a Moshe e a Aaron questa è una spiegazione erano pieni di buboni di puste eccetera eccetera non vorranno farsi vedere erano più barricati in casa o semplicemente perché fisicamente incapaci di dibattere e discutere con Moshe ricordiamoci i stregoni i maghi devono aiutare no? il faraone a contrastare Moshe a Aaron perciò secondo la seconda opinione essendo loro così i maghi stessi ricordiamoci i maghi che le prime volte riuscivano anche loro a fare tutti i vari prodigi anche loro fino a un certo punto quando loro vedevano che loro non riuscivano a contrastare Moshe a discutere a dire a fare il contrario a fare lo stesso miracolo eccetera allora si sono semplicemente nascosti incapaci di dibattere e discutere contro Moshe avevano colpito letteralmente vuol dire erano sui maghi ok prima di passare a pagina 718 andiamo a leggere il solito rassuntino della sesta piaga delle ulcere praticamente pagina 141 il box in grigio spiegazione dell'ulcera è perché proprio ogni volta vi ricordate noi cerchiamo di capire il motivo di ogni piaga che non è casuale ma perché proprio le ulcere che senso aveva l'ulcera dice così gli egizi consideravano costringevano gli ebrei a scaldare e a pulire i loro bagni senza tuttavia autorizzarli a usufruirne pulite i nostri bagni con acqua calda con calore eccetera disinfettateli ma non avete diritto di usarli per questo motivo subirono la piaga delle ulcere che fra l'altro non consentiva loro di lavarsi cioè loro andavano gli facevano lavare i bagni le docce le vasche quello che si chiamavano una volta non so cosa era e non potevano usarli benissimo allora tu la paghi indietro che tu ti viene una cosa che si chiama ulcera che ti impedisce di lavarti così come tu hai impedito agli ebrei di lavarsi gli ebrei venivano secondo B gli ebrei venivano costretti a lavorare fino a tarda notte e di conseguenza non potevano condurre una vita normale insieme alla loro famiglia perché ricordiamoci loro volevano distruggere proprio il popolo come anche con il tasso di nascite perciò l'oppressione era tale che anche fisicamente un uomo quanto andava di notte oltre a tutto lo stress mentale oltre a tutte le veramente a tutto il terrorismo psicologico che loro ricevevano ogni istante c'era anche una questione di fisico gli egiziani volevano distruggere stancare gli ebrei fisicamente in modo tale che loro non vogliono avere intimità che loro non producano altri figli le ulcere le ulcere a loro volta impedivano agli egizi di vivere normalmente che anche loro non potevano avere intimità con le loro mogli con le ulcere perciò occhio per occhio indipendente quella stessa moneta che hai fatto del male quella stessa cosa tu ricevi la punizione che cosa accade spiega il libro le ulcere buboni umidi buboni umidi fuori e secchi all'interno coprivano interamente il corpo degli egizi perciò tutto il corpo era pieno di questi buboni che dentro al secco fuori era umido la piaga colpì anche gli animali e fu accompagnata dalla lebra tre la piaga che colpì in particolare modo il faraone e accompagnò i suoi stregoni fino al loro ultimo giorno non consentiva agli egizi di lavarsi né con acqua calda né con acqua fredda e causò l'impudrimento ovviamente dalla loro pelle che emanava un terribile fettore ricordiamoci siamo in Egitto un paese caldo e questo aggravava tutto ultimo spiegazione al termine di questa piaga ebbe fine anche la schiavitù degli ebrei non che loro siano usciti ma da questa piaga in poi non erano proprio letteralmente non erano proprio ufficialmente schiavi adesso andiamo a pagina 718 se qualcuno nel frattempo vuole qualche domanda ok può fare adesso ok 718 questa paginetta è presa è la traduzione di un discorso del Rebbe che spiega così miracoli nella natura la sesta piaga in cui Hashem colpì l'Egitto fu quella delle ulcere la Torah racconta i maghi non poterono trattenersi al cospetto di Moshe a causa delle ulcere poiché le ulcere avevano colpito i maghi e tutto l'Egitto interpretando il versetto letteralmente si deduce che essendo stati gravemente colpiti da questo flagello i maghi si vergognavano di presentarsi a Moshe in condizioni intanto deplorevoli perché semplicemente si vergognavano e non sono venuti al suo cospetto e tuttavia è difficile accettare questo come un'unica motivazione non può essere soltanto questo in quanto i maghi erano stati colpiti anche dalle piaghe dalle altre piaghe quelle le rane i pidocchi senza che la Torah affermasse che non erano in condizione di presentarsi al cospetto di Moshe perciò su questo scenario l'abbiamo già avuto nelle altre piaghe come mai qui viene detto che loro si nascondono perché non possono stare davanti a Moshe a causa delle piaghe no? ne deriva che il motivo di tale comportamento affonda le radici in una ragione spirituale più profonda non è semplicemente che gli ebrei perdono che i maghi si nascondono perché si vergognano e cose simili bensì bensì si tratta di qualcosa di un po' più spirituale ne deriva che il motivo di tale comportamento affonda le radici in una ragione spirituale più profonda legata al fatto che la piaga delle ulcere contrastava nettamente la filosofia egizia adesso andiamo a capire in che modo contrastava perciò ripeto non si trattava semplicemente che loro non erano di bell'aspetto erano strani erano buboni no non c'è niente l'abbiamo già avuto e loro non si vergognavano qui il punto è un qualcosa di più serio un qualcosa di più legato al lato filosofico e spirituale della motivazione di questa piaga ok cerchiamo di capire dice così colpendo gli egizi con le piaghe Hashem desiderava non solo castigarli bensì essenzialmente far loro sapere ecco appunto che io sono Hashem come il Meso Pocanzi no ciò si verificò in più fasi nel caso delle prime piaghe fu concessa ai maghi la facoltà di imitarle e di riprodurle ricordate no le primissime piaghe anche gli egizi i maghi egizi facevano lo stesso poi giunse la piaga dei pidocchi che essi invece non furono in grado di replicare e che li constrinse a ammettere che si trattava della manifestazione del dito di Dio la prima volta che loro ammettono la grandezza di Dio affinché queste prime piaghe si verificassero era necessario un intervento umano e concreto di Moshe e Aaron ripetiamo una frase fate attenzione affinché queste prime piaghe si verificassero c'era sempre l'intervento di Moshe e Aaron pur avendo ammesso che si trattava di un miracolo i maghi avrebbero potuto attribuirne l'esecuzione a pratiche occulte in quanto dopo tutto era stato un essere umano provocarle visto che Moshe e Aaron usavano il bastone tutto quello che facevano erano loro due che cominciavano la piaga con una loro azione no allora uno poteva sempre dire eh l'ha fatto Moshe l'ha fatto Aaron non è per forza un miracolo divino potevano dire no perché era Moshe che iniziava Aaron che faceva Hashem quindi portò i miracoli a un livello superiore con la mescolanza di belve che abbiamo studiato l'altra volta di belve feroci e peste senza alcun coinvolgimento di Moshe e Aaron vediamo che qua fa già la differenza questo non c'è scritto che Moshe ha usato il bastone che Moshe ha fatto sono venute da sola questi animali a questo punto i maghi non avevano più nulla da contestare e dovettero ammettere che l'origine della piaga era divina perciò finché Moshe ha romputo il loro bastone mettevano bastone sull'acqua diventava sangue le rane picchiavano la rana diventava rane e i pidocchi tutte quelle cose finché loro gli ingizi potevano dire va bene stregoneria come noi lo facciamo lo fanno anche loro a volte noi siamo capaci di replicare di fare anche noi a volte noi non siamo riusciti comunque fatto sta che è una cosa che fanno Moshe e Aaron ci saranno due bravi stregoni a volte più bravi di noi ok succede ma non per falsa che qua dobbiamo vedere il dito di Dio no però quando appunto questa storia andava avanti Dio ha voluto incrementare la dose dei miracoli e a questo punto di non mettere Moshe e Aaron dentro che si capisse veramente in modo palese che è Dio che sta facendo un miracolo e non una stregoneria di Moshe e Aaron andiamo avanti pagina 719 sempre in seguito attraverso la piaga delle ulcere Hashem espresse contemporaneamente due dimensioni opposte uno la natura la natura che è una cosa e ciò che la trascende qua abbiamo non naturale nella natura natura e sovranaturale erano insieme in questa piaga infatti Hashem comandò a Moshe di compiere azioni naturali che lasciassero spazio a malintesi da parte dei maghi di nuovo Moshe fa un qualcosa perciò possiamo dire di nuovo che è una stregoneria però facendo loro credere che tutto avvenisse in modo naturale perché lanciare in aria della furigine affinché si spargesse in tutto l'Egitto e provocasse ulcere non può essere naturale perciò da una parte vediamo che Moshe fa un qualcosa prende un qualcosa prende già la furigine e la botta in aria e poi però si si espande in tutto l'Egitto e provoca ulcere perciò è una cosa naturale perché loro fanno un'azione naturale prendono della furigine e la butta in aria ma il risultato finale che cos'è? che è una cosa miracolosa perché non può arrivare in tutto l'Egitto e poi una volta che cade sulla pelle fare quell'effetto lì perciò i maghi avevano potuto constatare che si trattava appunto di un'azione da una parte naturale tuttavia portatrice di numerosi aspetti sovranaturali perciò un'azione naturale però che porta a un miracolo perciò è un miracolo racchiuso in in un'azione naturale naturale perciò naturale e sovranatural naturale insieme finora è chiaro? perciò da una parte Moshe fa qualcosa da una parte si vede che è totalmente miracolosa perché va al di là di una cosa che la natura non può esistere che un umano possa fare questo che butta sopra di te e vada in tutto il perimetro dell'Egitto e faccia quello che ha fatto perciò natura e sovranatura il midrash infatti afferma il seguente con le ulcere con questa piaga si verificò un grande miracolo in quanto neppure una freccia può percorrere cento amot che è una misura una distanza mentre la fuligine una freccia una freccia che la tiri con l'arco va molto lontano mentre la fuligine si sparse sull'intero paese più ancora di una freccia eppure Moshe l'ha soltanto gettata in aria prosegue il midrash riportando i miracoli che caratterizzarono questa piaga no? e si verificò con le ulcere un altro grande miracolo e un altro ancora vediamo che cosa la particolità la particolità della piaga delle ulcere fu quindi la combinazione del naturale e del soprannaturale da un lato Moshe prese la fuligine di fornace che quando è bollente può causare la formazione di ulcere a contatto della pelle dall'altra parte la fuligine presa da Moshe non era più calda ecco perché riusciva a prenderla un attimo prima era ardente ma quando Moshe la prendeva non era più calda appunto perché lui potesse toccarla e lì poi la gettò verso il cielo compiendo un gesto naturale ed essa si diffuse sull'intero paese in maniera palesemente soprannaturale vi furono numerosi altri miracoli di questo tipo sempre in questa piaga Hashem diede prova che anche in azioni del tutto naturali si c'erano aspetti e forze soprannaturali bellissimo questo concetto questa era una verità che i maghi non potevano comprendere e di conseguenza non furono in grado di presentarsi al cospetto di Moshe perciò il Rebbe prende una cosa semplice come la Torah la porta che semplicemente i maghi si vergognavano non potevano stare davanti a Mosè eccetera eccetera perché prende un aspetto eccetera ma Rebbe prende questo concetto e va in profondità e dice ma attenzione un attimo loro hanno avuto altre piaghe anche prima e invece sono andati davanti a Mosè sono vergognati allora Rebbe pensa e dice ah qua si tratta di una cosa non una piaga che ha distrutto che ha piegato ideologicamente i maghi questi maghi che pensano che loro possono replicare tutto quello che fa Mosè e addirittura a volte lo fanno meglio di lui e così via e comunque lo copiano a un certo punto arrivano e dicono wow qui è una cosa lui è riuscito a fare una cosa naturale ma che è arrivata a una cosa alla conclusione sovrannaturale allora questi loro non riuscivano a capirlo è chiaro questo punto? Qualcuna domanda da fare? è entrata Stefania il frattempo buonasera ok allora se nessuna domanda torniamo indietro nel testo buonasera 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 ok perciò siamo adesso abbiamo letto l'undici il dodici passo 12 parte del 141 Hashem Hashem rinforzò indurì il cuore del faraone che non diede loro ascolto come Hashem aveva detto Moshe questa frase anche qui il faraone non molla e indurisce il suo cuore 12 niente commento 13 Hashem a questo punto dice a Moshe alzati presto al mattino e presentati al cospetto del faraone e gli dirai due punti virgolette così ha detto Hashem Dio degli ebrei lascia andare il mio popolo affinché mi presti culto commento presentati letteralmente sta in piedi ta'amot iti atsev Moshe nella sua grande umiltà oh perché dice vai davanti al Moshe e sta in piedi oppure sta letteralmente sta in piedi Moshe nella sua grande umiltà usava inchinarsi lievemente a chiunque lo salutasse sai educazione passi qualcuno ti saluta abbassi la testa un mini inchino è come rispetto a chi ti sta salutando anche oggi si fa allora lui che era Moshe ma era più umile della terra chiunque vedeva faceva un piccolo chinava la testa un pochettino Hashem gli ingiunse a Moshe di non fare lo stesso con il faraone quando troverai non fare questo con lui perché questi non lo interpretasse come un segno di debolezza o di resa quando vedi il faraone non fare questo inchino che tu sei solito fare perché penserà che tu sei debole penserà che tu hai paura che non si monti la testa che non pensi che noi abbiamo paura di lui direi che oggi anche noi dobbiamo fare tesoro di questo insegnamento qua di non pensare di non far vedere che abbiamo paura perché non abbiamo paura perché capiamo che è tutta una cosa miracolosa tutta una cosa di Hashem semplicemente dobbiamo fare il nostro e Hashem fare il suo ma senza paura senza mi presti culto letteralmente mi servono servano la avot qualcuno deve servire cortesemente mi dite l'ora per sapere se andare avanti o meno 19 e 12 grazie allora andiamo avanti ancora 14 14 poiché questa volta io mando tutti i miei flagelli perciò lascia andarci a fare culto perché questa volta io mando tutti i miei flagelli contro di te contro il tuo cuore i tuoi servi e il tuo popolo affinché tu sappia che non c'è come me in tutta la terra Dio sta dicendo Mosè pardon Faraone ti sto dando la possibilità di fermarmi cogli la palla balza non farlo stupido lasciaci andare se tu ci lasci andare io la smetto qui non continuerò con le piaghe ripetiamo la frase poiché questa volta io mando tutti i miei flagelli contro il tuo cuore se non ci lasci andare i tuoi servi il tuo popolo affinché tu sappia che non c'è come Dio come me in tutta la terra vediamo 14 cosa ci offre tutti i miei flagelli affinché tu e i tuoi servi abbiate paura l'espressione tutti i miei flagelli indica che la piaga che stava per avere inizio sarebbe stata la più grave di tutte tutti i miei flagelli come se condoneva tutte le piaghe insieme in un commento che i rabbini considerano di estrema difficoltà Rashi spiega che queste parole si riferiscono alla piaga che colpì i primogeniti Makad Bekorot e non quella della grandine attenzione adesso nell'ordine doveva arrivare la grandine ok però secondo Rashi dice che dalle parole come sono scritte qui c'è chi dice che si intende che questa gravità di questa piaga è la morte di primogeniti e non tanto la grandine di cui Moshe para il faraone questa spiegazione suscita immediatamente due domande perciò se vogliamo dire che non è grandine ma è la morte di primogeniti la questione la piaga in questione è solo con le domande questa spiegazione suscita immediatamente due domande perché la Torah alluderebbe alla decima piaga in questo punto che siamo alla settima perché deve saltare e va alla decima quando sta per avere inizio soltanto la settima seconda domanda se invece l'espressione si riferisce alla grandine e non alla morte di primogeniti perché questa viene definita la più terribile delle piaghe bello qua no? fa la domanda dice se la mettiamo così c'è una domanda di là se la mettiamo così c'è una domanda di qua questo passo ha bisogno di essere interpretato in un modo profondo perché perciò se mi vuoi dire che stiamo parlando non della settima piaga ma della decima piaga cosa c'entra qui? siamo alla settima perché salti tre piaghe e se invece mi vuoi dire che questa era la più perché ci credo che era la più terribile non era più terribile grandine non era più terribile perciò comunque leggiamo questo verso abbiamo una domanda per spiegare il commento di Rashi vengono proposte diverse interpretazioni ok? attenzione ah Rashi vorrebbe che le parole Makat Bechorot perciò la morte dei primogeniti fossero punteggiate vocalizzate in modo da leggersi Makat Bakhurot la piaga che colpì le primizie perché infatti essa colpì la vegetazione e aveva già incluso lo stadio di maturazione come sottolineava come sottolineate nel verso 31 perciò Makat Bechorot vuol dire anche Makat Bakhurot perciò che il raccolto viene danneggiato perciò le primizie tale piaga viene considerata di estrema gravità perciò la grandine la grandine che va sul terreno e sui campi e massacra tutto questa è una cosa grave in quanto colpi la fonte dei nutrimenti nel paese allora se la leggiamo in questo termine in questa chiave di lettura capiamo che veramente sì è vero è una cosa gravissima perché ha distrutto perché allora parliamo di grandine intanto per cominciare ma questa grandine appunto è così grave perché ha distrutto i Bakhurot che vuol dire le primizie perciò i campi perciò non c'è più cibo allora questo la rende la più grave ma questa è una spiegazione ok perciò il punto che centra con la piaga del morto del primo genito è perché lì Makat Bechorot e qua è Makat Bakhurot perciò è simile capite il punto qua in ebraico magari in italiano non si capisce ma essendo la stessa pronuncia possiamo dire che la settima piaga è Makat Bakhurot che vuol dire rompere il raccolto scusi che primizie era no? non si conosce che mese era? non lo so ok grazie grazie qualsiasi cosa fosse non penso che perché chiede per sapere in primis che mese era e in secondo quanta potenza ha avuto la grandine quanta era potente la grandine perché se era uva era una era leggera cioè ma se ha distrutto che ne so anguri e meloni era capiamo che era potente allora per capire la gravità di potenza siamo alla settima piaga mancano tre mesi a Pesach più o meno ogni piaga e diceva mi aiuti ogni piaga è un mese giusto? siamo alla settima mancano tre mesi a Pesach perciò che mese può essere? febbraio febbraio marzo aprile qualcosa del genere tra gennaio e febbraio sì sto rispondendo così grazie grazie sto andando molto molto a spanne allora la seconda già la prima è bellissima Bakurot fa il gioco di parole ok la seconda dice così questa terza serie di piaghe ricordate che abbiamo detto che sono tre serie di piaghe no? 3-3-3 dice questa terza serie di piaghe culminò con quella dei primogeniti no? Rashi si riferirebbe quindi alla piaga che era al culmine dell'attuale serie dice così perché la chiama che è la piaga più grave questa qui perché comincia la terza serie da tre e finisce con appunto la morte di primogeniti perciò è l'inizio della fine no? è la la settima piaga che è nell'ultimo tripletta di piaghe che comincia con questo ma la fine è la cosa più importante perciò finendo con la morte di primogeniti è come se l'inizio della fine è proprio adesso ok c'ha un suo senso anche questo c terzo in un antico manoscritto di commento di Rashi si trova il termine bazzoret che vuol dire appunto siccità la più terribile piaga è la carestia causata dalla grandine perciò la grandine che distrugge il campi è appunto porta carestia è la più terribile perciò la grandine appunto rovinando il raccolto è la cosa più grave che c'è secondo altri commentatori il versetto si riferisce invece soltanto alla piaga della grandine l'espressione tutti i miei flagelli perché dici Dio tutti i miei flagelli doveva essere intesa come molti dei miei flagelli in quanto quello della grandine era composto da diversi elementi tuoni pioggia e grandine fuoco morte degli animali e gli esseri umani la grandine portava tutte queste disgrazie qua tutte queste rotture neve neve vapori piogge piogge sul ferie eccetera oltre che distruzione del raccolto perciò veramente richiude in sé diverse altre piaghe effettivamente il faraone si dimostrò molto spaventato da questa piaga non a caso infatti per la prima e ultima volta si confessò peccatore io sono peccatore e voi siete i saddikim così dice Moshe il faraone su se stesso ora Chaim il grande interpretatore dice che finora il faraone aveva continuato a sospettare che Moshe fosse uno stregone o che avesse una conoscenza occulta delle catastrofi naturali subite dall'Egitto vi ricordate abbiamo visto prima che loro volevano per forza far capire che far pensare che Moshe faceva magie cioè per loro ammettere che ci sia Dio è impossibile ma che un umano possa fare tutte queste cose hanno fatto di tutto per credere e far credere che era Moshe quando è più facile dire che era fatto Dio però loro ovviamente non potevano dirlo durante la grandine il re si rese conto che dietro a tali fenomeni si scelava la mano di Dio e che Ascemi era anche l'artefice delle prime sei piaghe per questo era come se tutte le mie piaghe fossero state inflitte contemporaneamente bella perché dice che tutti i miei fragelli è come se tutte le piaghe da prima oggi alla settima le manda con la settima piaga dice sì il significato è che finora il faraone pensava che le altre piaghe erano fatte da Mosè a Ron da umani e non da Dio invece adesso che scopre che tutte le piaghe in realtà sono una cosa di Dio allora è come se le altre piaghe che sembravano cose naturali in realtà le vengono tutti addosso adesso adesso capisce che sono tutte opere divine cioè come se tutte le piaghe vengono in colpo unico per il fatto che lui ha capito che è Dio che le giostra e non umano finiamo quest'ultimo contro il tuo cuore letteralmente c'è scritto dal tuo cuore in altri termini contro la durezza del tuo cuore che finora ti ha impedito obbedire Hashem faccio qua dice che siamo al 13 diciamo così c'è la frase alzati presto al mattino e presentati al cospetto del faraone gli dirai così ha detto Hashem Dio degli evrei lascia andare il popolo finché mi presti culto perdono 14 poiché questa volta io mando tutti i miei flagelli contro il tuo cuore ecco perciò tutti i flagelli contro il tuo cuore cosa vuol dire tutti contro il cuore contro il tuo cuore letteralmente al tuo cuore in altri termini contro la durezza tu continui a indurre il tuo cuore io ti mando dei flagelli contro questa durezza del tuo cuore che finora ti ha impedito di obbedire a me a Dio il tuo cuore si farà insensibile e duro soltanto da non farsi impressionarne pure dai grandiosi prodigi a cui stai per assistere ok finiamo qua prego a voi io voglio cominciare oh Samuel volevo chiedere si può vedere un'attinenza tra la settima piaga e la decima piaga nel senso che la settima piaga uccide le primizie quindi i bambini della natura e nella decima uccide i bambini dei primogeniti bella si può vedere un'attinenza tra le due cose cioè prima di arrivare a fare la cosa terribile ne ha fatta una in corrispondenza a questo aspetta che mi alzo in tuo onore oh no mi è venuta così fantastica fantastica perché è una cosa graduale Dio non arriva mai direttamente bellissima hai risposto da solo hai posto la domanda ed hai risposto grandioso grazie Samuel grazie a te per una volta non mi fai sudare freddo mi aiuti sto progredendo pian pianino brava scusi e oggi che alle 19.30 c'è lo scema mondiale giusto? non lo so ditemi voi qualcuno lo sa? sì mia moglie mi stava dicendo chiedi conferma però ha letto nelle chat ok scusi non ero ieri e oggi non ero molto presente ieri e l'altro ieri non ero molto presente non sono molto grazie grazie dottor Nestina cosa ci dice? ma a pagina 140 c'è una nota dove dice che usa il verbo Zarak invece di Hashlik dicendo che deve farlo con forza questo questo gettare a Shamaima cioè verso il cielo è così adesso una stupidaggia così un po' ma non è che c'è una gazzara shavà qui cioè come Moshe Rabbenu ha buttato verso il cielo con forza le ceneri per dare luogo i kwanim che sono i resti di quello che è bruciato nel forno nella fornace così il lanefesh dell'animale che poi sarà bruciato vengono buttato sui carnotti del misbeach oppure sugli angoli del misbeach perché usa lo stesso verbo Besarkub nea carona takor min cioè c'è qualcosa che mi dà questa impressione non so se sia giusto oppure una stupidaggia vediamo vediamo se sia un senso allora lei dice buttare si dice Besarak perciò il fatto che ha lo stesso verbo lo stesso verbo lui buttava la cenere e loro buttavano il sangue dell'animale un moscello faceva per mandare la piega sui egiziani e i kwanim lo facevano come gesto di sacralità invece del misbeach per dare cavode a Corban insomma ok mi sembra che ci sia un link tra queste due lezioni non impossibile insomma ecco perché di solito ha un senso non saprei dire se veramente ha no ma a primo no certo ma è solo l'impressione a pelle insomma potrebbe avere un senso potrebbe ma chissà vediamo bisogna rifletterci guardare un po' di libri ma non un senso Grazie a tutti.